Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Tra qualche mese, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli diventeranno genitori del loro primo figlio insieme. Il sesso del bebè non è stato ancora rivelato dai diretti interessati, ma grazie a una gaffe di Fariba, mamma dell'influencer, i fan hanno scoperto se arriverà un maschietto o una femminuccia. Fariba Terani non è famosa solo per essere la mamma di Giulia Salemi, ma anche per le gaffe che spesso ha commesso nei confronti della figlia. La simpatica persiana ha colpito ancora una volta, svelando ai fan il sesso del figlio che la sua erede aspetta dal compagno Pierpaolo Pretelli. Attraverso i social, Fariba ha mostrato una bellissima cameretta per neonati. I fan hanno notato i dettagli e hanno capito che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano una femminuccia. Anche se i diretti interessati non hanno commentato il sesso del bebè, i seguaci non hanno dubbi. In famiglia arriverà una baby Julie. In attesa del gender reveal con cui Giulia e Pierpaolo annunceranno il sesso del primo figlio, molti si chiedono la data del parto dell'influencer. La Salemi non ha ancora rivelato la data, ma probabilmente diventerà mamma intorno a gennaio-febbraio 2020.